Ciao a tutti ragazzi eccoci qua con un video bonus come avete letto dal titolo siamo qui con la recensione e l'unboxing di questo zippo è uno zippo base street chrome pagato 15 euro su amazon andiamo subito ad aprirlo la scatola nera dello zippo molto bella quella classica nella parte superiore della scatola troviamo la famosa garanzia dello zippo e troviamo il nostro accendino accendino tutto in metallo con questa cromatura alquanto bella perché se vi provocate righe su questo materiale su questa cromatura praticamente non si potranno vedere allora l'accendino è normalissimo come tutto il zippo funziona con la benzina che adesso vi farò vedere come vedete funziona benissimo la benzina è la classica benzina zippo questa qua anche questa ha ordinato su amazon e io ho comprato anche per sicurezza le pietrine le pietrine di accensione quindi questo accendino io l'ho comprato un po' per collezionismo e anche un po' perché andando quest'estate in campeggio mi serve un accendino affidabile comunque che mi permetta di accendere fuori abbastanza facilmente senza anche in condizioni di vento quindi ragazzi se il dito vi è piaciuto lasciate un bel mi piace qui col vino bonus è tutto ciao